i tre cani c'era una volta un vecchio contadino che aveva un figlio e una figlia quando venne a morire li chiamò al suo capezzale e disse figlioli miei sto per morire e non ho nulla da lasciarvi solo tre pecorine nella stalla cercate d'andar d'accordo e non avrete da patir la fame quando fu morto fratello e sorella seguitarono a stare insieme il ragazzo andava dietro alle pecore e la ragazza stava in casa a filare e a far da mangiare un giorno che il ragazzo era con le pecore nel bosco passò un omino con tre cani buongiorno a te bambino buongiorno a lei omino che belle pecole che hai anche lei ha tre bei cani ne vuoi comprare uno quanto costa se mi dai una pecorella io ti do uno dei miei cani e poi cosa mi dice mia sorella cosa ti deve dire di un cane avete pur bisogno per guardare le pecore il ragazzo si persuase e gli dette una pecora e si prese un cane chiese come si chiamava e l'uomo gli disse spezza ferro quando fuori ad andare a casa aveva il cuore che gli batteva perché certo sua sorella l'avrebbe strapazzato difatti quando la ragazza andò a mungere le pecore nella stalla vide che c'erano due pecore e un cane e cominciò a dirgliene di tutti i colori e a bastonarlo che ne facciamo di un cane me lo sai dire se domani non mi porti tutte e tre le pecore te la faccio vedere io ma poi si persuase che per fare la guardia alle pecore un cane ci voleva lì domani il ragazzo andò nello stesso posto e incontrò di nuovo quello mino con i due cani e la pecorella buongiorno a te bambino buongiorno a lei o mino la pecorella mi muore di malinconia disse l'uomo anche il mio cane muore di malinconia disse il bambino allora dammi un'altra pecorella io ti do un altro cane mamma mia mia sorella mi voleva mangiare per una pecora sola figuriamoci se ne do via un'altra guarda un cane solo non ti serve a niente se vengono due lupi come ti salvi il ragazzo ha consentì come si chiama schianta catene quando l'incasò alla sera con una pecora e due cani e la sorella gli domandò le ha riportate tutte e tre le pecorelle non sapeva cosa rispondere disse sì però c'è bisogno che tu venga nella stalla le mungo io ma la ragazza vuole andare a vedere e il fratello finì a letto senza cena se domani non tornano tutte e tre le pecore io ti ammazzo gli disse la sorella l'indomani mentre pascolava nel bosco vide passare l'omino con le due pecore e l'ultimo cane buongiorno a te bambino buongiorno a lei omino io ora ho questo cane che muore di malinconia e la mia pecorella anche dammi quella pecorella e prenditi questo cane no no non parliamone nemmeno ora ne hai due perché non vuoi il terzo almeno avrai tre cani uno meglio dell'altro il suo nome spaccamuro spezza ferro schianta catena spaccamuro venite con me quando fu sera il ragazzo di tornare a casa dalla sorella non ebbe il coraggio è meglio che vada a girare il mondo pensò e cammina e cammina con i cani che gli battevano la strada per boschi e per valli cominciò a piovere di rotto si era fatto buio e non sapeva più dove andare in fondo al bosco vide un bel palazzo illuminato cinto da un alto muro il ragazzo bussa nessuno apre chiama nessuno risponde allora spaccamuro aiutami tu non aveva ancora finito di dirlo che spaccamuro con due zampate aveva rotto la muraglia il ragazzo e i cani passarono ma si trovarono di fronte a una fitta cancellata di ferro spezza ferro a te disse il ragazzo e spezza ferro con due morsi mandò i cancelli in pezzi ma il palazzo aveva una porta chiusa da pesanti catenazzi schianta catene chiamò il ragazzo e il cane con un morso liberò la porta che saperse i cani si infilarono per le scale e il ragazzo dietro nel palazzo non si vedeva anima viva c'era un bel caminetto acceso e una tavola imbandita con ogni ben di dio si sedette a mangiare e sotto la tavola c'erano tre scodelle con la zuppa per i cani finito di mangiare andò di là e c'era un letto pronto per dormire e tre cucce per i cani la mattina quando si alzò trovò preparato lo scappo e il cavallo per andare a caccia andò a caccia e quando l'incasò trovò la tavola preparata con il pranzo il letto rifatto e tutto lustro e pulito così passavano i giorni e lui non vedeva mai nessuno e tutto quel che desiderava l'aveva insomma viveva da signore allora incominciò a pensare a sua sorella che poverina chissà che vitagramma faceva e si disse voglio andare a prenderla e farla stare insieme a me tanto adesso che ci sta così bene non mi sgriderà più se non riporto a casa le pecore l'indomani prese con sei cani montò a cavallo tutto vestito da signore e andò a casa di sua sorella quando arrivò la sorella che stava sulla soglia a filare lo vide venire da distante e disse chi sarà mai quel bel signore che viene da me ma quando vide che era suo fratello con quei cani invece delle pecore cominciò a fargli una delle solite scene ma il fratello le disse va là cosa voglio ancora sgridarmi che io faccio una vita da signore e sono venuto a prenderti con me ora che non abbiamo più bisogno delle pecore lei so a cavallo e la condusse nel palazzo dove visse anche lei da gran signora tutto quel che le veniva in mente subito l'aveva però i cani continuava a non poterli soffrire e tutte le volte che il fratello rincasava lei riattaccava a brontolare un giorno che il fratello era andato a caccia a quei tre cani lei uscì in giardino e vide laggiù in fondo una bella melaranza andò per coglierla e mentre la spiccava dal ramo salto fuori un drago e le si avventa contro per mangiarla lei cominciò a piangere e a raccomandarsi a dire che non era lei ma suo fratello che era entrato per primo nel giardino e che casomai doveva essere mangiato suo fratello il drago le rispose che suo fratello non si poteva mangiare perché era sempre con quei tre cani la ragazza chiese al drago che le dicesse cosa doveva fare e lei pur di salvarsi la vita gli avrebbe fatto mangiare suo fratello e il drago le disse di far legare i cani con catene di ferro al di là del cancello e del muro del giardino la ragazza promise e il drago la lasciò andare quando il ragazzo tornò a casa la sorella cominciò a brontolare che non voleva più avere intorno quei cagnacci mentre mangiava perché puzzavano e il fratello che aveva sempre la pazienza di contentarla in tutto andò a legare i cani come lei diceva poi lei gli disse ad andare a prendere quella melaranza che era in fondo al giardino e il ragazzo ci andò stava per spiccarla quando salto fuori il il ragazzo comprendendo il tradimento della sorella chiamò spezza ferro schianta catene spaccamuro e schianta catene schiantò le catene spezza ferro spezzò le sbarre del cancello spaccamuro aperse il muro a zampate arrivarono addosso al drago e lo sbranarono il ragazzo tornò dalla sorella e disse basta è questo il bene che mi vuoi mi volevi far mangiare dal drago adesso con te non ci voglio più stare salì a cavallo e andò in giro per il mondo coi tre cani arrivò da un re che aveva una sola figlia e c'era un drago che se la doveva mangiare si presentò dal re e gli disse che voleva questa figlia in esposa il re gli disse mia figlia non te la posso dare perché la deve mangiare un terribile animale se però tu sei buono a liberarla resta inteso che è tua bene maestà ci penso io non vi preoccupate andò a cercare il drago l'attaccò e i cani se lo mangiarono tornò vincitore e il re lo fidanzò a sua figlia venne il giorno delle nozze e lo sposo dimenticando quel che era stato fece venire sua sorella dopo lo sposalizio la sorella che aveva sempre il dente avvelenato contro il fratello disse stasera voglio preparare io il letto a mio fratello e tutti credendo a un gesto di brava sorella dissero di sì invece lei nel posto dello sposo mise sotto le lenzuola una sega affilata la sera il fratello si coricò e restò tagliato in due lo portarono in chiesa con gran pianti coi tre cani fedeli dietro al feretro poi chiusero la porta e i tre cani restarono dentro a guardare la salma uno dalla parte destra uno dalla parte sinistra e uno dalla parte della testa quando i cani videro che non c'era più nessuno uno di loro parlò e disse ora vado e lo piglio e un altro e io lo porto e io lo ungo disse il terzo così i due cani andarono via e tornarono con un vasetto di unguento e l'altro che era rimasto di guardia unse la ferita con quell'ungento e il giovane tornò sano di nuovo il re fece ricercare che aveva messo la sega nel letto e scoperto che era stata la sorella la fece condannare a morte il giovane ora era felice con la sua sposa tanto più che il vecchio re stanco abdicò e lui salì al trono ma aveva un unico dispiacere che i tre cani erano spariti e per quanto li avesse fatti cercare per tutto quel regno non era stato possibile trovarli pianse e si disperò ma dovette rassegnarsi una mattina gli fu annunziato un ambasciatore e quest'ambasciatore gli fece noto che c'erano tre bastimenti ancorati a largo che portavano tre gran personaggi e questi personaggi volevano riannodare la loro antica amicizia con lui il giovane re sorrise perché lui era sempre stato un contadino e i gran personaggi non aveva mai conosciuti ciò nonostante seguì l'ambasciatore per incontrare questi che si dichiaravano suoi amici trovò due re e un imperatore che gli fecero grandi feste dicendogli non ci riconosci ma guardate che dovete esservi sbagliati disse lui non avremmo mai creduto che ti saresti dimenticato dei tuoi fedelissimi cani come esclamò lui spezza ferro schianta catene spacca muro trasformati in questo modo gli risposero non eravamo stati trasformati in cani da un mago e non potevamo tornare quelli che eravamo finché un contadino non fosse messo in trono dunque dobbiamo essere grati a te come tu devi essere grato a noi perché ci siamo aiutati a vicenda l'ora in avanti saremo sempre buoni amici e in ogni circostanza ricordati che hai due re e un imperatore sempre disposti ad aiutarti si trattennero diversi giorni in città tra grandi feste venuto il giorno della partenza si divisero augurandosi ogni bene e furono sempre felici